Aveva appena rubato da un cantiere allestito all'interno di un'abitazione privata in fase di ristrutturazione numerose pedane in ferro. Si tratta di un pregiudicato arrestato giovedì scorso dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria. I poliziotti, quindi a seguito di una nota di furto in atto a pervenuta dalla sala operativa, si erano portati in via Carlo Alberto nei pressi di un'abitazione privata appena segnalata. Sul posto gli agenti hanno quindi sorpreso CV queste le iniziali di 24 anni, noto pregiudicato con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sempre per il reato di furto aggravato, intento a caricare all'interno del bagagliaio di un'auto numerose pedane in ferro di proprietà della ditta idile che aveva allestito il cantiere per la distrutturazione edilizia. Stante a quanto accaduto, il giovane ladro è stato quindi condotto negli uffici di polizia e tratto in arresto per il reato di furto aggravato in flagranza. Espletate le formalità di rito su disposizione del pubblico ministero di turno, il 24enne è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Continua, senza sosta intanto ricorda la polizia di Stato, l'attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori nella città di Vittoria.